Benvenuti nella nuova postazione! Eccola qui! Le mensole sono ancora vuote, le dobbiamo arredare ovviamente Però noterete, noterete qualcosa di molto particolare Perché ci è finalmente arrivato il silver battle L'abbiamo aspettato tipo 4 mesi Ma finalmente ce l'abbiamo Oh, è arrivato perfettamente nel momento in cui stavamo arredando il nuovo studio Sembra fatta posta Esatto, esatto E infatti l'abbiamo subito appeso E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E sono Stef, che se oggi chiamo GTA V E benvenuti in un novissimo episodio di GTA V In cui Stef mi metterà alla prova Vai Stef, racconta Esattamente, allora, quest'oggi facciamo una cosa davvero particolare Hai presente la vita reale, Feren, con tutte le leggi che ne conseguono? Certo che ce l'ho presente Ok, quando devi attraversare devi passare nelle strisce pedonali Devi stare attenta ai semafori Devi stare attenta a non urtare le persone A non rubare delle auto Insomma, ci sono tantissime leggi da rispettare Ecco, quest'oggi ti voglio far giocare a GTA V Con diversi obiettivi da completare Senza appunto per infrangere le leggi della vita reale Quindi non potrei Scusa Stef, tu stai dicendo che io solitamente infrango le leggi? Allora, ne infrangi 5 al secondo all'incirca Non è vero, io mi comporto benissimo allo santo Se lo sanno tutti ho una reputazione impeccabile Stef Quindi non mi piace questa tua sfida Certo, 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 assolutamente così Quindi allora, io ho preparato quattro cose da fare E tu le dovrai Vabbè, non abbiamo ancora iniziato, scusa Mi sto sfogando prima delle limitazioni Allora, scendi dall'auto Non posso usare neanche la... Scusa, io l'auto l'ho pagata È mia, quindi posso andare in giro Abbiamo due regole Uno, devi giocare come se non hai soldi Due, devi giocare come se non hai nessun veicolo personale Ok? Quindi Come se non ho vestiti Come se non ho niente Stef Perché mi stai privando dell'anima in questo momento Scendi dall'auto Partiamo qui, allora Se qua ci sono gli impisti alla fontanella vuol dire che io ci posso stare Esatto, esatto Vai, prima cosa Il tuo primo obiettivo è andare a fare la spesa Ok? Ok Per fare la spesa però devi sia arrivare in un market Sia procurarti dei soldi Ma tu non puoi procurarti dei soldi In nessun modo, diciamo, illegale O comunque non proprio consono Quindi Allora non c'è modo Stef Come posso essere pagata io in questo gioco? Ci sono... Allora mi viene giusto in mente Rubare una macchina e venderla Ma non si può fare Non puoi rubare Chiedere l'elemosina ma non si può fare Vabbè che devo fare? Dico scusa non ho soldi Prestami 5 euro per andare a fare la spesa Allora Dato che c'è già un'altra sfida dove appunto ti dovrai procurare dei soldi per fare un'altra azione Ok Per questa prima, giusto per farti riscaldare Facciamo che devi soltanto riuscire ad arrivare al market senza infrangere nessuna legge Farti la spesa e andartene via Ok? Così è un pochettino più semplice Ok Facciamo che compro qualcosa di molto economico Sto vedendo dove è un market Ne hai uno vicinissimo e un po' più in basso Lo vedi? Se quello è vicinissimo Stef La sicurezza non passa neanche nel prato Sai com'è Solitamente No no infatti I prati non bisogna mai calpestarli Non puoi Bisogna essere persone civili Esatto Non lo faccio Esatto Devi anche stare attenta a non colpire nessuna persona o cose del genere Correre posso correre Magari una fretta quindi corre e vai in giro Una cosa un po' strana ma almeno non c'è nessuna legge Che poi mi sta venendo un dubbio Stef Ma esistono le strisce pedonali? Beh da qualche parte Secondo me non esistono in GTA Nel semafori dai nel semafori sia Qui cammino perché questa è l'urto sicuro È verde? Credo di sì Sì posso passare vai Ok Andiamo 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 veloci che puoi scattare al rosso non so quanto durano qui Hai visto che bella passeggiata che ti sei fatta Ferro? Finita Stef Non finisce più una Cioè mi fanno male le gambe qui Mi fanno male le gambe Dai che sei arrivata Abbiamo camminato troppo Forza forza entro al market Ok aspetta che qua urto tutti Esatto Anche se questa se lo merita solo per come è vestita Con calma Alzati i pantaloni Vai Ma dimmi te Ma dimmi te Vai Allora cosa devo comprare nello specifico? Perché tu sei bene che qui non è che ci sia troppa scelta Cioè cosa compro? Una coca cola? Ma non posso pranzare con una coca cola? Una coca cola e dei cioccolatini Non stiamo facendo la vita reale Ferro Stiamo semplicemente cercando di non infrangere le leggi Ho comprato una coca cola e una barretta di cioccolato Ok Andiamo Andiamo fuori andiamo Andiamo forza 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 Adesso però fare le cose si fanno difficili Ok Perché il secondo obiettivo è andare a fare una passeggiata nella spiaggia Ok Il discorso è che noi siamo abbastanza lontani dalla spiaggia Quindi Chiamiamo un taxi Dovresti cercare Esatto Potresti chiamare un taxi Ma tu non hai soldi per questo taxi E me li presti tu No non te li posso prestare Perché no? Perché ti sto mettendo alla prova Devi riuscire in qualche modo A procurarti le cose su GTA Legalmente Sì Sì aspetta Ci sono i lavori Da qualche parte ci dovrebbero essere i lavori di GTA no? I lavori di GTA Sì quegli obiettivi giornalieri Che ti permettono di guadagnare dei soldi Ok No? Ok Sì mi piace I carichi giornalieri Partecipo No sono difficili Sono un po' complicati Partecipo a una gara rally Uccisione Mentre è nascosto al radar E qui non lo posso fare Ok E completa un attacco banna Tutte cose un po' illegali Un po' illegali Sì Quindi se vogliamo rispettare le leggi e le regole Non si possono fare A vera Ti è andata male perché a me è capitato Voi a vedere un film? Accidenti a te Steph Accidenti Perché non è capitato a me? Sto pensando un modo di fare qualche soldo Già ad esempio una gara non sarebbe così tanto illegale no? Perché teoricamente Cioè è una gara clandestina teoricamente Però Ok però Diciamo che GTA per far soldi ti propone queste cose Quindi non sono io Tecnicamente è una legge di GTA Una partita di tennis ti fa guadagnare dei soldi? Non lo so Vuoi andare a giocare a tennis e provarci? Beh avrebbe senso eh Potresti farti i soldi che ti servono Tecnicamente se vuoi giocare a tennis spendi Non è che vieni pagato a meno che non sei bravo No perché è una sfida contro un altro Ok dai facciamo una sfida di tennis allora vai Ok ho messo in paglia 200 dollari Ferre perché non so se si guadagna quindi anche se non si guadagna Io non so giocare Devi vincere da me vai Allora era meglio fare soldi rubando auto Steph Ferre devi farli in modo illegale Questo è un modo legale Ok questo è un puntino E' un punti Io ho qualche problema Ho fatto case Ma che bello No ma sono io che le manco Non sei tu che stai giocando bene No sono io molto brava Steph No per niente Perché vincere soldi mi sta motivando Capito? Che forti che sono Guardateli come giocano bene Uh Ferre vinco io No Steph mi devi far vincere Mi servono soldi Non ti farò mai vincere Non possiamo andare avanti Uh che tiro Ce la faccio Uh che brava Ti devo battere Non vincere mai Non vincere mai Non vincere mai Devo stare concentrata Zitto Zitto non devi parlare Dai e perdi Steph E perdi Allora devo fare un tiro strano Eccolo Uh Ancora Vado Maledetta Te l'ho detto Ho vinto Si E' bello Neanche capisco se vinco o meno Però va bene Va bene Prendi questa ferre E' la fine per te Ma che cosa è la fine Tieni No Non ci provare Tieni che è questa Ok Eh questa è difficile Ti prego Guarda questa Eh ti prego Ok E' perdi E' perdi E' perdi E' perdi Ok Uff ragazzo Dai finito Finalmente Cos'abbiamo questi soldi Possiamo andare A fare le altre cose Voglio vedere se guadagni Davvero dei soldi Fammi vedere un attimino Vediamo No 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 Meno male che ho messo Quei 200 in paglio Perché altrimenti Dopo mezz'ora Che si fa giocare Sarebbe finita malissimo Quindi non abbiamo trovato Comunque ancora un modo Di guadagnare Senza fare qualcosa Di illegale in GTA Ci tengo a chiarirlo Perché Forse non c'è un modo Forse non c'è un modo Ma che bel taxi Che ti sei pagata Con i tuoi 200 dollari Che hai perso E' stato bellissimo Quanti gli spesi all'incirca Per andare in spiaggia Sai che non lo so Ma dai ma non è Non è neanche chiesto Non l'ho tolato Mica sei così ricca Cara mia Anche perché ti informo Che ti serviranno altri soldi Per altri obiettivi Se ne avanzano paghi tu Dai mica il taxi Oppure scappiamo No beh 200 dollari Per andare alla spiaggia Non te li fa pagare A parte che siamo abbastanza vicini Alla spiaggia Perché ovviamente Andiamo nella parte più vicina Non è che ti diluni Secondo me 8-10 dollari Te lo dico Quindi non è tanto Non è tanto Però guarda che divertente Stare qua Sì moltissimo Aspettare i semafori rossi Il traffico Macchine che fanno incidenti Davanti a noi Guarda Poi dici cosa a me Guardali Non mi interessa fare Guardali sono appena tamponati E ho fatto finta di nulla Non stanno facendo un video Quindi loro possono fare Quello che vogliono Mi dispiace Secondo obiettivo Completato fare complimenti Se riuscite ad arrivare Nella spiaggia Grazie Adesso abbiamo Due obiettivi Molto difficili Che secondo me Non riuscirai a fare Allora Ti spiego un pochettino Il terzo obiettivo È procurarti dei soldi Per comprarti dei vestiti Eh ma i soldi Non li abbiamo già procurati No perché 200 dollari Non ti bastano Per i vestiti Il quarto obiettivo Ma li compro economici Steph Il quarto obiettivo È lavare un'auto E se tu non hai un'auto Come fai a lavarla? Ma allora Se tu ti giri Io la rubo vale? No Cioè se tu non vedi No 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 Allora A me è venuto in mente Un modo per fare soldi Che diciamo che Non è propriamente illegale Ci può stare Ok dimmi allora Ok Praticamente Io chiamo un rapinatore Che rapina a me E tu Lo insegui Lo insegui a piedi E ti prendi soldi E ti prendi soldi Ah è difficilissimo Per di più non puoi usare armi da fuoco Puoi usare giusto una mazza da baseball Perché è illegale tenere delle armi da fuoco Non è vero Quindi? Magari allo Santos puoi tenere un'arma Non lo sai Quindi praticamente no Fere togli le armi Togli le armi Stai infrangendo le leggi Questa è una mazza La posso aver trovata anche in terra Va bene Ok Stavo in faccia È un po' minacciosa così Eh però Credo che stia per arrivare Fere Bisogna tenere gli occhi aperti qui Sono un po' in ansia Dov'è? Non vedo nessuno Eccolo Eccolo dietro di te Aiuto Ok Corro 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 Fermati 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 Steph corre come un pazzo Steph aiutami Ok ce l'ho fatta L'ho steso È morto Gli ho preso i soldi Ce l'hai fatta? Sì credo di sì Ok È steso quindi gli ho presi Il rapinatore mandato da Ferenichi per derubarti è stato ucciso Fere Mi devi spiegare qualcosa? No Va dormendo Sì ma il gioco ha detto che il rapinatore me l'hai mandato tu Non è vero? Scusa secondo te I rapinatori vengono mandati I rapinatori di loro spontanea volontà rapinano Quindi sei una cittadina modello Che era lì per caso Quando uno è venuto a rapinarmi i soldi E tu sei riuscita a salvare la situazione A buttare giù il rapinatore Dovresti ringraziarmi Steph Sì ma tu dovresti farmi un regalo Dovresti darmi un regalo Eh ma tu dovresti restituirmi i soldi Altrimenti me li stai rubando tu No Li ha rubati lui Io li ho presi a lui Quindi adesso sono miei È giusto Quando si aiuta un cittadino Bisogna dargli una ricompensa Altrimenti le persone Il 10% di quello che mi è stato rubato Io mi prendo tutto dai Allora Steph Una confessione da farti Sì Con i 5.000 che ho preso dal rapinatore 5.800 5.800 Ok Che erano miei Quindi quasi 6.000 Sì Ho comprato un'auto da 3.000 Ok Così posso andare a fare gli altri obiettivi Steph Allora Quindi tu hai speso 3.000 Lasciandoti 2.800 Che mi bastano per i vestiti Per andare a comprare i vestiti E poi lavare l'auto stessa Che ti sei comprata Per completare l'ultimo obiettivo Allora non penso che ci sia bisogno di lavarla Steph Adesso vedrai in che condizioni È questa auto No no Sei obbligata a lavarla a priori Non mi interessa in che condizioni è Allora dovrebbe essere arrivata Però Fere Mi dispiace dirti una cosa Dimmi Hai appena infronto una legge Perché Stai correndo in mezzo alla strada Ma non c'è nessuno Non è una strada questa Mi dispiace Non è vero Uno Tutti sono d'accordo che io non l'ho infranta Stai attenta Ok Perché puoi ancora infrangerne altre La prego di andare nel negozio di vestiti più vicino Le metto un segno ed è davvero vicino Ok Ok Quindi c'è lo stop Bravissima Sì Dove devo andare? A sinistra Ok Occhio Non ha rispettato lo stop Non sono io Steph E lui Assolutamente Che l'ho rispettato Altro stop Guarda che bravo Guarda che bravo Beh è bene quella linea c'è per a caso L'importante è fermarsi Ok vai avanti Devo girare qua Devo andare dritta Perché devo parcheggiare? Perché poi ci sono le strisce pedonali e arriviamo al negozio Ma parcheggio lì davanti? No non ci sono parcheggi lì Va bene Guarda che bel parcheggio Ok Ok Verrebbe visto una macchina parcheggiata così bene in tutto il gioco Siamo ancora a solo una legge infranta Quindi concentrati e fai bene le ultime cose Ok Ok Dov'è il negozio? È lì di fronte Ok quindi dobbiamo attraversare qua Esattamente Sospettiamoci Devi scegliere qualcosa di super economico Perché hai 2800 E te li devi far bastare anche per poi lavare l'auto Ok mi sa che visto che sta facendo freddo Mi compro tipo un cappotto Un cappotto Un cappotto Perché dico economico Vabbè ma magari trovi qualcosa che non costa troppo Capito? Stef ho speso solo 148 dollari Ho preso il più economico in assoluto E anche è carino Guarda C'è stata bravissima Mi piace pure Però Fede guarda cosa ho trovato nel negozio C'è la nostra maglietta qua Wow bellissima La stanno vendendo talmente tanto che la vendono anche nei negozi di GTA 5 Sicuramente è arrivata anche nei negozi Non ho soltanto una legge Non mi ricordo Ah lì giù Ok vieni Andiamo 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 Cioè ti ricordo Che poi tecnicamente Eh non posso Però è il gioco che ha fatto male in tutto e per tutto nei dettagli Quindi vai 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 A te Uh Fede Sta bene Guarda come corre Felice Stef Seconda legge infranta Secondo me siamo dalla parte sbagliata Stef Dici? Sì si entra da qui Aspetta Ok attenta a non sbattere Un attimino Un'inversione veloce In un luogo pubblico Tanto non c'è nessuno Quindi possiamo entrare tranquilli Ce la faccio eh Ok Eccoci qua Ci siamo Stef Prezzo? 15 dollari Un po' caro eh Un po' caro No dai No si 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 Non costa così tanto un autolavaggio Stef Fammi pazienza 15 dollari Guarda che bella lavatina Fede Congratulazioni Sei riuscita a superare una giornata su GTA 5 Senza infrangere nessuna legge Nel tanto gli infranto due Qual è la seconda? La seconda è quando hai quasi investito il tizio Ma non l'ho investito Se il danno non è fatto Vuol dire che non esiste Stef Comunque rimane Mi hai fatto paura Tu la vedi aggiustata O me la vedo ancora rotta No no la vedo rotta anche io Guarda la targa Che tu mi hai spaccato Perché Grazie a tutti E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao